Salve a tutti, una puntata di Un brano ogni tanto, in questa puntata spiego la decisione presa dal sottoscritto, da me e da Roberto Cota su cosa sarà il nostro futuro e quello che intendiamo fare in Regione. Perché ho deciso di dirlo qua a Telemonterosa? Perché ritengo che questo rapporto, ormai che dura da 15 anni con voi, sia importante e sia giusto cercare di spiegare qual è il mio ragionamento e quello che abbiamo fatto insieme al neo governatore e anche per cercare di, ancora una volta se ce ne fosse bisogno, far capire invece chi sono quelle persone infide che vedono solo il male, che cercano solo di dire bagianate, che cercano di spaventare la gente, che cercano di raccontare balle in giro per fare in modo di ottenere dei risultati, ma che poi ogni volta che si va a votare prendono solo delle saccagnate elettorali, però ne è il Partito Democratico che in Consiglio Comunale a Varallo piuttosto che a Borgosesia o ovviamente insieme ad altri accoliti a loro vicini, dicono peste corna, fanno di tutto un erbo un fascio e poi quando si va a votare prendono addirittura la fantastica percentuale del 14%, cioè il 14% significa pochissimo per un partito che vuole essere alternativa a un certo consenso elettorale, 14% Borgosesi e la Lega ha preso il 43-44% da sola, a Varallo ha preso il 46% e il PD ha preso anche lì una cifra intorno al 12-13%, questo perché lo dico anche? Perché quando li vedete lagnarsi a creare sempre, sono solo problemi, ci sono solo difficoltà, non c'è niente che va bene, sono tutto bravo loro, tutto loro lo sono capaci di fare, però quando hanno avuto l'opportunità di governare hanno fatto pietà e poi siccome va tutto male e la gente continua a votare per la Lega o vota per il sottoscritto, forse si dovrebbero domandare perché e adesso vi dico un'altra chicca della signora Bresso, sapete che ormai è la terza puntata che racconto le chicche della signora Bresso, perché sono gentile ovviamente, quella con la puzza sotto il naso, quella che pensa essere più furba di tutti gli altri messi insieme, che infatti la gente non l'ha più voluta, con il voto ovviamente, la quale qualche 20 giorni prima delle elezioni, quindi come governatrice, è andata a farsi votare come rappresentante delle regioni d'Europa e loro hanno fatto tutta una campagna, l'abresso rappresentante delle regioni d'Europa, punto di riferimento, infatti dopo 20 giorni che è andata a casa perché i cittadini non l'hanno più voluta, ripeto non l'hanno più voluta, pur avendo le sue liste preso più voti di quelle delle liste di Roberto Cotta, che cosa è capitato? Ve l'ho detto l'altra volta e voglio ripeterlo, che avendo la possibilità di fare il voto disgiunto, Roberto Cotta ha preso decine di migliaia di voti in più rispetto all'abresso e ha vinto le elezioni, perché l'abresso se faceva il conto e la somma di tutti i partiti e le liste civiche che la appoggiavano, avrebbe vinto le elezioni, ma la gente non l'ha voluta, perché è una professoressa saccente che pensa sempre di essere più furba degli altri, la sostanza è questa qua, ma è quello che gli dirò poi il 3 maggio quando ci sarà il primo Consiglio regionale dove ha proprio voglia di vederla, ma dicevo è stata nominata Presidente delle regioni d'Europa come se fosse chissà che cosa e quindi negli ultimi giorni di campagna elettorale diceva anche l'Europa mi vuole, io sono il rappresentante italiano in Europa, l'unico che ha un vero ruolo etc. Perso le elezioni ovviamente lì in Europa gli hanno detto scusa vabbè che sei rappresentante dell'Europa, tra un po' anche magari penserà del mondo visto come se la tira, ma adesso che hai perso le elezioni lei cosa ha fatto? Non avendo il coraggio di chiedere direttamente a Cota di farla rimanere lì in quel posto, perché con tutto quello che ha detto a Cota contro la Lega, siete razzisti, siete dei barbari, Cota è così giovane, così banale raccontava, ma pensate se uno deve fare la campagna del genere o come ricordate a me Turaccio, l'ignorante, adesso vi presento l'Antibuonanno, l'Antibuonanno ha preso su tutta la provincia di Vercelli i 140 voti, pensate un po', sarà l'Antitarme più che l'Antibuonanno, al di là di quello, questa qua adesso gli frigge perché non ha più una poltrona e allora questa è la sostanza, non avendo il coraggio e ovviamente non volendo abbassare la testa di chiamare Cota, che non ha neanche ringraziato, non gli ha neanche detto ti faccio i complimenti come nuovo governatore, anzi è andato a dire dobbiamo riconteggiare le schede, infatti poi gli hanno spiegato che è meglio che taceva perché era una emerita stupidaggine, infatti non lo dicono più, ha fatto chiamare tramite il Presidente della Regione Emilia Romagna, Errani, ha fatto chiamare Cota per chiedere se poteva rimanere la Bresso, siccome sono tutti e due del PD gli ha detto chiama tu perché io, questo per dirvi che razza di gente che magari non c'è neanche la spina dorsale per fare determinate cose, è solo lì che va a impietosirsi che lei deve rimanere in Europa perché se non ci sta lei, poverina, va magari un francese oppure va un tedesco oppure va uno spagnolo, è un importante posto, è andata a parlare anche a Roma perché a Roma magari qualcuno riuscirà a darle una mano, questa è la signora a Bresso, a casa, meno male che è andata a casa, meno male che è andata a casa e quelli del PD lì tutti allustrargli le scarpe, quelli di sinistra lì, l'Udc anche, compagnia bella, tutti lì la Bresso la chiamavano per nome, Mercedes, io sono amica di Mercedes, ma vergognatevi che non sapevate neanche chi era, anzi lei non sapeva che eravate voi, è venuta qua gli ultimi giorni, non sapeva neanche chi eravate, e voi tutti, ah Mercedes, io sono amica, ci aiuterà, che non sa neanche i momenti dove è la Valsesia, e questi tutti lì così a fare il lacché, e quelli sarebbero stati i paladini del nostro territorio, i paladini del nostro territorio, erano tutti lì intorno, quando ho dato la settimana scorsa, che è andato alla Coppa a prendere gli yogurt e tutti dietro, oh faccio la spesa, perché non so, si faceva a fotografare, è arrivato col pullman, non c'era nessuno, hanno cercato di portare un po' di gente, perché scendeva dal pullman e si trovava uno spaventapassere al posto di qualcuno, ecco questa era la sostanza di tutti quelli che dicono, e prova ne è ancora una volta, che poi dicevano la sanità va tutto bene, per i treni va tutto bene, per il turismo va tutto bene, per la viabilità va tutto bene, insomma se andava tutto bene perché ha perso, spiegatemi perché se la sinistra era così in gamba ed è stata così in gamba ha preso il 14% in Valsesia, perché? E se io raccontavo balle mi devono spiegare perché la Lega ha preso una media intorno al 50% in Valsesia, solo la Lega e il sottoscritto siccome è un pirla per loro, è stato il più votato della provincia di Vercelli, con quasi 10 mila voti di preferenza e malgrado ci fosse, e lì c'è stato lo zampino della sinistra, anche questo vi voglio dire, quella Lega Padana, quella lista Patac dove non c'è nessuno, hanno fatto la Lega Padana per fregarci i voti, solo in provincia di Vercelli ne hanno fregati 1.500 che erano nostri e hanno candidato casualmente, uno si chiama Bonanno, che ha solo la U di differenza rispetto a me e mi hanno tagliato centinaia e centinaia e centinaia di preferenze e se guardate i dati la provincia che ha avuto più schede nulle in tutto il Piemonte è stata la provincia di Vercelli con il 6%, lo sapete perché? Per quella porcheria della Lega Padana e sapete chi è il capo di quella porcheria della Lega Padana perché è un simbolo dove dietro non c'è niente? È un tipo di Torino che è stato denunciato per firme false, ma al di là di quello si è fatto aiutare da chi? Da un consigliere regionale di sinistra che è amico della Bresso, ma che combinazione, ma provate un po' a pensare ma perché queste liste civetta per fregare i voti all'avversario fanno sempre i danni verso una certa parte e non capitano mai nella loro, perché non c'è stata una lista che poteva dare danni a loro perché erano d'accordo.